Sallusti, Cangitano, prego direttore Sallusti. Ma guarda, io tutte le mattine do un'occhiata, non dico che li leggo attentamente ai giornali stranieri come immagino facciano molti di noi. Io non trovo queste polemiche, soprattutto nei tre paesi, o questo tipo di problematica, non polemica, soprattutto nei paesi produttori di vaccino, cioè negli Stati Uniti, in Russia e in Inghilterra. Quelli vaccinano da mattina alla sera e, come dire, se ci sono degli incidenti di percorso, per carità li registro, immaginano che li indaghino, ma non è un problema. Perché allora, io voglio andare avanti sul discorso di Concita De Gregorio, perché in Europa invece siamo ossessionati da questo? Perché l'Europa è un mercato per questi tre vaccini. devono conquistare l'Europa, perché conquistare l'Europa significa conquistare anche un mucchio di soldi, oltre che tanto prestigio, eccetera, eccetera. E che quindi ci sia, io ho un retropensiero, che stiamo parlando di una guerra tra multinazionali e tra lobby che le rappresentano, invece che di un problema scientifico. Perché mi spiegate? Perché in America non c'è, in Russia non c'è e in Inghilterra non c'è. Sono i tre paesi che hanno vaccinato più di tutti. Maura Gangitano, quando uno...